EA Sports, è in giro Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi di nuovo per la carriera di FIFA 2015 Abbiamo lasciato l'ultima puntata, avevamo fatto solo la prima partita Ma adesso vi faccio vedere cosa è successo Abbiamo fatto solo un'altra partita contro il Cittadella Nel quale abbiamo vinto 2-0 doppietta di Amendola Perché abbiamo saltato, e in più abbiamo passato il mese delle partite amichevoli La Coppa Italia pure abbiamo giocato Sì, ah questa qua l'abbiamo registrata che abbiamo vinto 2-1, giusto? Se non sbaglio, non ricordo Sì, comunque abbiamo saltato tutte le partite amichevoli perché erano troppe E abbiamo fatto una sola partita amichevole in cui l'avete vista E poi abbiamo saltato questa partita Perché avevamo registrato il gameplay però per problemi di computer Non è venuto bene e quindi l'abbiamo dovuto saltare per forza Però adesso siamo alla seconda partita di campionato Questa era la prima partita di campionato vinta per 2-0 contro il Cittadella Ah no, era la seconda di campionato, Jonathan Perché la prima era contro lo Spezia per 0-0 Abbiamo fatto 0-0 Quindi la seconda di campionato è andata 2-0 contro il Cittadella E adesso dovremo giocare contro l'Avellino L'Avellino, come si chiama? Il Cuzzavellino No, no Cuzzavellino, senza Cucuz, solo Avellino Bene Tanto il nostro calciatore, giusto per farvelo assaporare Per farvelo vedere È arrivato a 72 Il nostro Salvatore Amendola Ragazzi, se volete consigliarmi Cosa mi possono consigliare su questa cosa per fare qualcosa Niente, non mi potete consigliare niente Però ditemi cosa ne pensate del nostro giocatore Se sta migliorando bene Se secondo voi ce la facciamo a vincere questo campionato di Serie B Bene Proseguiamo col calendario Vediamo cosa succede Niente Dobbiamo andare contro il Lavellino appunto E senza fare gli strupidi anymore Andiamo a giocare la partita Contro il Cuzzavellino No, solo contro il secondo Lavellino Ovviamente come al solito ragazzi Io comanderò tutta la squadra Non comando solo Amendola Perché se no non mi trovo Controlla l'intera squadra E andiamo a vedere Come sempre Jonathan vi farà un montaggio delle parti più belle Della partita Perché se no il gameplay dura 15.000 anni Ecco, si scende in campo Allo stadio di Avellino La partita tra Avellino e Trapani Dove il nuovo arrivato Amendola Metterà di nuovo in mostra Non lo sappiamo Castaldo Wow, Castaldo gioca nell'Avellino Jonathan Te lo ricordi a Castaldo? Giocava nella Juve Stabia Poi è giocato nella Iannucerina E Pumboza è andato pure nell'Avellino Praticamente si è fatto odiare da tutti contemporaneamente Lo vediamo che si riscalda Cosa farà quest'oggi Amendola Lo sapremo Tra poco Si batte E... Filcor Ha la palla per l'Avellino Cambia gioco verso Zito Zito! Questo pure giocava con la Juve Stabia Salvatore Zito Questo è Napoletano Scatrotola Attenzione a Castaldo GG Casta La 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 No, non dobbiamo difare per Castaldo però Che noi siamo del Trapani Barilla Amendola Vai Amendola Amendola a rientrare No, no Amendola non ce l'ha fatta Barilla Per Mancosu Ancora Amendola Che da lontano Prova il tiro E non ci riesce Non ci riesce Ne salta uno Ne salta un altro Amendola Grandioso Tiro Aaaaaah Il portiere Gomis La prende Porca trottola Con i pugni in faccia Buona la trama Buona la trama del film Attenzione Tanti tiri in aria Per l'Avellino Mangosu In avanti Amendola cerca di intercettare Cosa ha preso Amendola Cosa ha preso Mamma mia Amendola Mamma mia Mamma Cosa andava dentro 0 a 0 Ma Amendola Un'azione verso il finale Del primo tempo Grandiosa E dir poco Si ricomincia Amendola con Un paio di finte Cerca di portarsi davanti Vuole sbloccare la partita Ancora finte Per Amendola Piede sul pallone Ma poi Si lascia Intimidire Da Castaldo Cerca di avanzare Attenzione Amendola Ma sta facendo Un partitone No Per quanto Non è andata dentro Sta giocando Benissimo Quest'oggi Amendola Dopo le incertezze Dei primi Delle prime fasi Adesso Sta facendo vedere Chi è A rientrare Cerca di filtrarla Per Amendola Che però Viene intercettata Attenzione Corabasso Per Amendola Rigore 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 Calcio di rigore Calcio di rigore Per il Trapani Amendola guadagna Un calcio di rigore E sarà lui A tirarlo Intanto esce basso Ed entra alto Ma se questo Si chiama alto Veramente me ne va Che O alto belli Non mi ha detto Chi ha E' entrato Va bene Lombardi Cambia Tiratore E mettiamo Amendola Amendola GOOOOOOOL Gol su calcio Di rigore Aumento appunto Della Abilità Di gol Su calcio Di rigore Amendola Mette la sua firma Su questa partita Nettissimo Freddezza Di Amendola Dal dischetto Dagli undici metri Il pallone va dentro Il portiere Non fa altro Che restare al centro Perché Ipnotizzato Dallo sguardo Di Amendola Perché li hanno fatti Tutti col provolone Di pugno Gomis Barilla Mancosu Vai Mancosu Vai Mancosu Vai Vai Filtrante Per Amendola Che c'è Di corpo Arini Lo allontana Barilla Barilla Per Amendola Non fartela togliere Amendola Non fartela togliere Tiro Madonna Con il piede Pure il nostro Pure il partire Si chiama Gomis Tutto e due Gomis Devono essere fratelli Porca trottola In mezzo Lunghissimo Calcio d'angolo Intanto Rizzato No Zalazar Prende appunto La palla per Lavellino Verso Castaldo Alta per Amendola Che cerca di prenderla Tira Mamma mia Era una cannonata Nella pancia del portiere Nella pancia del portiere Amendola sta facendo Una partita A dir poco Strabiliante Ragazzi Il giocatore Arrivato in prestito A questo trapani Da parte del Napoli Sta facendo Una partita Strepitosa Si sta rivelando Un vero talento Per questo trapani Che È già Alla sua seconda vittoria Per il momento Staremo a vedere Come finirà La dà lunga Verso Mancosu Che però Non ci riesce Non si capiscono Fra di loro E finisce così Questa partita Per 1-0 Gol Di Amendola Realizzato Su calcio di rigore 5 partite completate Cresce il nostro Giocatore 83% Di tiri Del quale Un solo gol Perché era Vabbè La rigore 7,6 È la valutazione Finale Non siamo L'uomo partita Ma va bene Va bene Non fa niente L'importante è che Abbiamo giocato Abbastanza bene Per la potenza Del nostro giocatore Vediamo Intanto Siamo ancora 72 Abbiamo fatto 3 gol Il nostro Obiettivo È di Segnarne Almeno 12 Ce la facciamo Perché se continuiamo Così la proiezione Ci porta di 42 Una media Di 6,2 Dobbiamo avere Siamo a 7,4 Quindi ci siamo Fornisce almeno 5 asti Per i compagni Quello Stiamo ancora a 0 E dobbiamo farli Come obiettivi secondari E mantiene una percentuale Di realizzazione Di almeno del 12% E siamo a 21% Bene Quindi questi sono I nostri obiettivi Vediamo quale sarà La prossima partita Ah Juve Stub Eh Juve Stub Trapani Catania Sarà la prossima Partita Ragazzi Non mancate Quindi al prossimo Episodio Vediamo un po' La classifica Intanto di questo Trapani Vediamo Livorno Al primo posto Con 3 partite Giocate E 7 punti Pescara al secondo Con 7 punti E Bologna Al terzo Con 7 punti Il Trapani Non è lontani Ah Partita contro il Catania Sì siamo tutti Al primo pari merito Però per gol Fatti Gol subiti Contro i diretti Siamo al quinto Con 3 partite Giocate E 7 punti Una vittoria Contro il Catania Ci permetterebbe Di andare Al terzo O quarto posto Solitario Bene Stiamo andando Molto bene Abbiamo vinto Contro un Avellino Che è In 17esima Posizione Quindi Doveva essere Una partita Molto facile Grazie ragazzi Di aver visualizzato Il video Se vi è piaciuto Il video Cliccate un bel Mi piace Condividete su Facebook Twitter Google Plus E ovunque Voi vogliate Non dimenticatevi Di iscrivervi Alla pagina Facebook Dei Amendola Brothers Trovate il link In descrizione E se per caso Non lo trovate Scrivete Amendola Brothers E la trovate lo stesso Siamo anche su Twitch Ragazzi Iscrivetevi al nostro Canale Twitch Dove facciamo le live E se per caso Il video Non vi è piaciuto Perché può sempre Capitare Che il video Non vi sia piaciuto Da parte di chi? Da parte di Cina Mitaro Grazie ragazzi E al prossimo video Ciao Adio